Favole al telefono di Gianni Rodari. Storia del regno di Mangionia. Sul lontano antico paese di Mangionia, a est del Ducato di Bevibuono, regnò per primo Mangione il digeritore, così chiamato perché dopo aver mangiato gli spaghetti sgranocchiava anche il piatto e lo digeriva a meraviglia. Gli successe sul trono Mangione secondo, detto tre cucchiai, perché mangiava la minestra in brodo adoperando contemporaneamente tre cucchiai d'argento. Due li teneva lui con le sue mani, il terzo glielo reggeva la regina e guai se non era pieno. Dopo di lui, nell'ordine, salirono sul trono di Mangionia, che era collocato a capo di una tavola imbandita giorno e notte. Mangione terzo, detto l'antipasto. Mangione quarto, detto cotoletta alla parmigiana. Mangione quinto, il famelico. Mangione sesto, lo sbrana Tacchini. Mangione settimo, detto ce n'è ancora? Che divorò perfino la corona e sì che era di ferro battuto. Mangione ottavo, detto crosta di formaggio, che sulla tavola non trovò più nulla da mangiare e inghiottì la tovaglia. Mangione nono, detto ganascia d'acciaio, che si mangiò il trono con tutti i cuscini. Così, la dinastia finì.